Hey guys, welcome and welcome back to my channel everyone, si finalmente eccomi qua con la seconda parte del video, ma prima, siglo! Eccomi, ovviamente guys, qui subito dopo la sigla, pronto, prontissimo a iniziare questo nuovo video, a iniziare la seconda parte guys, dedicata alla collaborazione ovviamente che ho avuto con Chalk Beauty, thank you so much again Chalk Beauty, love you so much! Ovviamente la prima parte del video vi la lascerò qua, vi lascerò ovviamente poi il link diretto nell'info box, è stata dedicata ovviamente all'unboxing, quindi ho praticamente aperto il mega scattolone di cui sono stato omaggiato con tutti i prodotti e vari dispositivi di Chalk Beauty, E oggi guys li andremo a testare, andremo a provarli, andremo ovviamente poi a vedere come si sono comportati nel percorso ovviamente del trattamento che andremo a fare, non vedo l'ora, ma ovviamente guys, non posso assolutamente iniziare questo video se non vado assolutamente a ringraziarvi, thank you so much! Big family! Thank you so much guys for all your amazing support, per tutti i vostri fantastici commenti e like che mi rilasciate ovviamente ogni volta qui nei video, love you, love you, love you, thank you, thank you for wow, for your amazing effect, sono davvero ultra molto felice di, wow, di crescere sempre di più e di far, wow, di condividere con voi questa mia grandissima passione, Ovviamente vi lascio anche la barra qui sotto per andare a iscrivervi al mio canale, accedere alla campanellina se non l'avete ancora fatto e assolutamente non volete perdervi nessuna news about new video guys, excuse me, I'm sorry, no no no, cliccate assolutamente la campanellina e sopra la mia testolina un po' così bardata, ma sempre bionda, il mio Instagram, Quindi andate ovviamente a iscrivervi al mio Instagram se ovviamente non siete ancora iscritti per non perdervi assolutamente le stories, tutte le mie skincare, varie routine che vado a fare con voi, tutti i vari ovviamente aggiornamenti e spoiler ovviamente per i nuovi video in uscita. Prima guys di iniziare finalmente questa skincare routine insieme ovviamente agli accessori e vari dispositivi che Chalk Beauty ovviamente mi ha omaggiato per questa fantastica opportunità di collaborare con loro, mi raccomando non perdetevi assolutamente l'unboxing, la parte 1, link diretto nell'info box, vado a ricordarvi ovviamente maggior dettagli sull'azienda. Innanzitutto è un brand inglese, è un brand che è focalizzato guys sulla creazione di dispositivi e accessori per il beauty, per far sì che la nostra pelle sia ancora più flawless e in più guys la cosa bella, la cosa meravigliosa che mi ha davvero colpito tanto è che tutti i prodotti e dispositivi sono 100% organici e assolutamente non testati sugli animali. Thank you, wow Chalk Beauty for this amazing opportunity, sono davvero felicissimo e guys devo dire che questo video è stato davvero tanto, tanto richiesto, è stato tanto richiesto da voi, è stato tanto richiesto anche dall'azienda perché io all'inizio volevo farvi delle stories, volevo farvi vedere ovviamente come il vario dispositivo funzionava, per come andava a lavorare, invece no mi avete chiesto in tanti ma perché non fai un video? Anche l'azienda ovviamente mi ha chiesto se avrei avuto piacere ovviamente di fare un video sul suo ovviamente dispositivo, sui vari accessori ovviamente per come andavano a funzionare. Ed eccomi qui con un video guys for you, sono davvero felice guys di tutta questa richiesta che avete avuto ovviamente nei miei confronti, quindi guys partiamo subito con la skin care perché io non vedo l'ora, non ho ancora provato assolutamente nulla e quindi yes skin care time! Primo step guys che inizio e vado ad utilizzare per questa skin care routine, credetemi non vedevo l'ora di iniziare ad utilizzare questo dispositivo guys Questo dispositivo guys, questo device ha davvero tantissime funzionalità e non vedo assolutamente l'ora di mostrarvele tutte step by step durante il video, ma una di quelle, la principale ovviamente è la detersione. Grazie ovviamente alle setore di diverso spessore si va a pulire davvero molto più a fondo il viso in una maniera molto più decisa, intensa e delicata e mi piace. Ovviamente troviamo il pulsante d'accensione e di spegnimento con le varie ovviamente più o meno che sono le pulsazioni se le si vogliono ovviamente più strong o meno strong. Al lato della scatolina troviamo ovviamente manuale di istruzioni per come utilizzare ovviamente il vario dispositivo e il cavo usb ovviamente per caricarlo. Io non vedo l'ora dire di iniziare subito con la detersione quindi vado ovviamente ad applicare il mio detergente. Applicato il detergente guys, comunque è ultra, è ultra leggero questo dispositivo, fantastico. Vado ovviamente a tenere premuto il pulsante fino a che non inizio ovviamente a vibrare. Ho finito ovviamente di utilizzarlo quindi di passare ovunque ovunque su tutto il viso. Tengo premuto ovviamente per spegnerlo. Adesso andiamo a risciacquare il cleanser e andiamo a risciacquarlo con questo. Pad, ovviamente io mi sono già preparato la mia ciotolona d'acqua quindi vado ovviamente a impregnarlo d'acqua. È morbidissimo guys, è morbidissimo. Impregnato d'acqua, I'm ready for remove all my cleanser. Cleanser rimosso guys e devo dire che è ultra morbido. Anche sul viso rimuove il cleanser in una maniera delicata ma perfettamente, top, lo amo. Sicuramente lo riutilizzerò adesso per tutta la vita perché mi piace tantissimo per come in una maniera così delicata e soffice è andato ovviamente a rimuovere il cleanser. E ora passiamo, super felice guys, non assolutamente vedo l'ora di mostrarvi ovviamente tutte le altre varie tecnologie del dispositivo. Un'altra mega funzionalità che ha questo dispositivo guys, oltre a livello detersione 100% che è soddisfatto per come le setole sono andate a pulire in una maniera così intensa, decisa, profonda ma delicata la pelle. Me l'hanno lasciata morbida e ultra idratata, mi piace tantissimo l'effetto finale. Ma ovviamente questo dispositivo ha anche questa parte qui che andando ovviamente a rimuovere questo anellino magnetico si può andare comodamente a inserire un cotton pad. Ed è quello ovviamente che faremo. Ovviamente io ho diviso i miei cotton pad in due perché sono troppo spessi. Ovviamente con l'anellino per andare a bloccare il cotton pad andiamo a richiudere. Ovviamente guys questa funzionalità va a permettere che si può andare a inserire ovviamente il latte detergente. Quindi si può andare, ci si può ovviamente andare a struccare ma I don't use make up. Oppure si può andare a inserire ovviamente sopra il cotton pad il tonico. Ed è quello che ovviamente farò con voi. Quindi andiamo a inserire ovviamente il tonico. E poi andremo ovviamente ad applicare il tonico con questo metodo su tutta la pelle. Ti piace? Voilà, cotton pad imbevuto, andiamo. Ovviamente io picchietto ma mi piace tantissimo il metodo di come lo sto applicando il tonico. Adoro! Guys, tonico applicato, si va poi comodamente ovviamente a rimuovere il cotton pad e poi ovviamente a richiudere il tutto. Mi piace, ovviamente guys da mostrarvi l'ultima funzionalità di questo dispositivo. Ultima funzione, ultima funzionalità che questo dispositivo andrà a regalare alla nostra skin. Sono davvero felice di averlo ricevuto, sono davvero felice di questa collaborazione perché è davvero un dispositivo completo in tutto. Ovviamente al centro di questa area questo dispositivo va a emanare una luce LED rossa. Top! Ovviamente le luci LED rosse servono ad aiutare ovviamente il nostro siero, il nostro mostruizer o il nostro prodotto ovviamente a penetrare molto più in profondità la nostra skin. E in più va ad aiutare tutte le nostre linee più marcate, tutte le nostre rughe ad assottigliarsi per ovviamente donare un aspetto molto più giovane e fresco. Io amo da morire, adesso andrò ovviamente ad applicare il mio mostruizer e poi andremo insieme a utilizzare la luce LED. Ho applicato abbondantemente il mio mostruizer e adesso grazie anche alla luce LED che adesso andremo a provare andrò a farlo penetrare molto più in profondità e andrò a farlo assorbire facendo sì che tutte le mie linee si assottigli di più. Andiamo a premere ovviamente il dispositivo, iniziano le pulsazioni, si preme un'altra volta e la luce LED appare. Quindi io facendo ovviamente così vado ad aiutare il mio mostruizer ad assorbirsi. Emana calore, si sente che emana calore ed è una sensazione ultra piacevole. Lo sposto come se fossero dei battiti del cuore, quindi a piccoli tocchi. Il calore ovviamente si intensifica. Emanusia Quando si è soddisfatti si spegne il dispositivo La crema ovviamente è il vostro Mostruizer Per voi ovviamente si è assorbito abbastanza Mi piace la sensazione perché sento la pelle molto più rilassata La sento bella calda ma coccolata Mi piace tantissimo l'effetto proprio finale Che mi ha rilasciato ovviamente questa funzione Di questo dispositivo ultramagico Veramente top Prima di salutarvi e di terminare ovviamente il video guys Non posso altro che raccomandarvi questi accessori e questi dispositivi Perché solo la mia pelle hanno davvero lavorato fantasticamente Yes! Hashtag dell'ultimo momento fantasticamente Mi piace, mi piace come l'hanno idratata Come l'hanno addolcita, come l'hanno coccolata Rendendola ancora più giovane senza rughe Ma comunque davvero guys sono molto al 100% che soddisfatto E questi prodotti e questi accessori e questi dispositivi Sono 100% che raccomandati Quindi yes! Guys grazie davvero per tutto il vostro supporto che mi regalate ogni giorno Per farmi vivere davvero ogni giorno speciale e immenso come lo siete voi Vi amo Thank you again check beauty for this amazing opportunity I'm so happy Davvero wow Sono davvero felice, 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 felice di come hanno lavorato E per tutte le loro funzionalità che hanno avuto sopra la mia pelle Ovviamente guys vado a ricordare anche la barra qui sotto Per andare a iscrivervi al mio canale Se non siete ancora iscritti accederà alla campanella Per non perdervi assolutamente nessuno Ne usa batte il mio video E sopra la mia testolina Sempre bardata ma bionda Il mio instagram Quindi andate ovviamente a seguirmi anche sul mio instagram Per non perdervi tutti gli aggiornamenti Tutti i vari spoiler che ovviamente vi vado a fare E nulla che dirvi guys See you on the next video Ci vediamo al prossimo video Ciao